Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi del caso Luisa Alberto, di nuovo. Capisco che questo non sia un periodo facile, dato che è finito il campionato e inizieranno i mondiali, quindi a livello di contenuti io non voglio fermarmi qui su YouTube, ho già in mente qualche cosina interessante, qualche cortometraggio come vi ho abituati negli ultimi anni, volevo anche portare i post partita delle partite della Serbia, che insieme all'Uruguay e all'Argentina è una nazionale a cui tengo particolarmente, anche perché c'è Milinkovic-Savic, quindi fatemi sapere nei commenti se vi potrebbero interessare i post partita della Serbia e fatemi sapere anche se ci fosse qualche contenuto che potrebbe intrattenervi in questo mese e mezzo. Allora, caso Luisa Alberto, ha parlato alla gente e ha detto quello che tutti noi già sapevamo, ovvero che Luisa Alberto non è felice alla Lazio, vorrebbe più spazio, vorrebbe più spazio e poi bisogna vedere se verranno confermate queste dichiarazioni, però io ovviamente posso parlare di quello che è stato detto. È stato detto dalla gente che Luisa Alberto non è felice, vuole più spazio e quindi mi sembra che la cessione sia l'unica soluzione papabile per il bene del calciatore e per il bene della squadra. Questo è un passaggio fondamentale per il bene di Luisa Alberto e per il bene della Lazio, ragazzi, perché Luisa Alberto era abituato con Inzaghi ad essere un giocatore chiave della squadra, a giocare tutte le partite senza mai riposarsi e da quando è arrivato Sarri il ruolo di Luisa Alberto è quello di entrare a partita in corso, praticamente di giocare gli ultimi 30 minuti, quando i ritmi si abbassano e quindi io capisco che possa volere più spazio. Certo è che per il bene della squadra io continuerei così, perché Luisa Alberto è un calciatore che quando i ritmi si abbassano fa la differenza, fa la differenza. Ha deciso la partita contro l'Inter, segnando, entrando a partita in corso, ha fatto 2-0 contro il Verona, entrando al sessantesimo. Lo scorso anno ha fatto tanti gol e tanti assist, entrando al sessantesimo. Quindi dimostra di essere un calciatore in grado di spaccare le partite insieme allo stesso Pedro. Però, ecco, se a lui non sta bene questa situazione, questo ruolo, è giusto che voglia andare via. Luisa Alberto, ragazzi, è tecnicamente uno dei calciatori più forti che io abbia mai visto giocare, da quando seguo il calcio, però ha tanti difetti, cioè ha tanti limiti, perché lui ha un ruolo all'interno della partita, quello di illuminare l'azione, di creare il gioco, perché può farlo e può farlo anche abbastanza facilmente. Però Sarri preferisce centrocampisti più completi. Cioè, perché Sarri gli preferisce Vesino, per esempio? Nonostante Vesino sia tecnicamente inferiore a Luisa Alberto, i due non si possono neanche minimamente paragonare a livello tecnico, ma Vesino è più completo, perché ti dà una mano in fase difensiva, ti dà una mano in fase offensiva, andando a riempire l'area di rigore, no? E creando quindi occasioni da gol. E poi è cattivo, è cattivo, mena, recupera tanti palloni, è quello che Luisa Alberto non riesce a fare. Riesce a farlo, ma veramente in pochi momenti. Lo stesso discorso vale per Ilic, perché Sarri vorrebbe in caso rimpiazzare Luisa Alberto con l'inserimento di Ilic del Verona. Ilic, stesso discorso, tecnicamente non varrà Luisa Alberto, ma è un centrocampista più completo. Ha 21 anni, quindi tra l'altro ha ancora tanti margini di miglioramento. Ma è uno che ti aiuta in fase difensiva, recuperando tanti palloni. È uno che ti aiuta in fase offensiva, è uno estremamente dinamico. Quello che Luisa Alberto non è, perché, perché obiettivamente non... Ilic corre, ragazzi, Ilic corre. È per questo che Sarri preferirebbe avere lui al posto di Luisa Alberto, perché è più funzionale al suo modo di giocare. Tutto qua. E bisogna privilegiare la squadra. Non bisogna dare priorità al singolo, perché io sento molti laziali, e questa è veramente una mentalità provinciale che a me non piace, Sento molti laziali dire, eh no, Sarri deve fare pace con Luisa Alberto, perché Luisa Alberto è Luisa Alberto e quindi deve giocare di più. No, ragazzi, non possiamo dare così tanta importanza ad un singolo. Dobbiamo dare priorità alla squadra. Dobbiamo dare priorità alla squadra. È inutile che poi si dica che, eh, ma Ilic non vale Luisa Alberto, perché questo, perché quell'altro. Ragazzi, cioè, se Sarri vuole Ilic, un motivo ci sarà oppure no? Perché vi ricordo che Sarri è lo stesso che voleva Provedel, è lo stesso che voleva Casale, è lo stesso che voleva Romagnoli, ed è lo stesso che voleva Besino. Quattro calciatori che sono diventati titolari inamovibili di una squadra che fino a una settimana fa era seconda in classifica. E che adesso è comunque quarta in classifica. Quei calciatori li ha voluti Sarri, perché evidentemente Sarri sa cosa vuole, sa che cosa gli serve. E evidentemente, scusate la ripetizione, Ilic è calciatore più funzionale a Luisa Alberto. E se Luisa Alberto vuole andare via, come ha dichiarato la gente, credo che la cessione sia la soluzione più giusta per il bene suo, che vuole più spazio, vuole giocare di più, e per il bene della squadra, della Lazio. Io credo che potrei chiudere anche il video qua. Questo è il discorso. Poi, se la gente si è inventato tutto, io questo non posso saperlo, ragazzi, perché io sono sicuro che Luisa Alberto tenga molto alla Lazio, perché la Lazio lo ha rilanciato. Lo ha rilanciato a livello professionale, gli ha dato un'altra possibilità, che è stata sfruttata alla grande. Luisa Alberto ha vissuto forse i momenti migliori della sua carriera qui a Roma. Quindi, ci sta che Luisa Alberto tenga molto alla Lazio, però è un calciatore che ha 30 anni, quindi non è ancora, non ha l'età di Pedro, per intenderci, a cui va bene giocare 30 minuti a partita, entrare a partita in corso. Quindi ci sta che Luisa Alberto voglia giocare di più, voglia più spazio. La sensazione è che alla Lazio questo spazio non lo troverà. Poi, il mercato è un discorso complicato, perché secondo me difficilmente la Lazio riuscirà a piazzare Luisa Alberto alla cifra che chiede, cioè 18 milioni. Difficilmente, difficilmente. Quindi questa è una situazione molto intricata, che verrà risolta soltanto col tempo. Vediamo che cosa succederà. Ma ditemi che cosa ne pensate nei commenti, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto, noi ci vediamo successivamente. Ciao ragazzi, forza Lazio!